Siamo veramente a un bivio, un bivio durissimo. Andare avanti oppure non so, non mi faccio neppure dire la parola. Da 4.340 a 27.786 euro in un anno. È solo uno dei numerosi esempi di aumento di bollette dettato dal caro energia. I prezzi di luce, come nel caso specifico, e gas stanno mettendo in ginocchio imprese e commercianti. Difficoltà si registrano anche per il settore degli albergatori. Abbiamo raggiunto dei aumenti che si attestano intorno al 600% per quanto riguarda l'energia elettrica. Ora stiamo aspettando il gas che forse sarà ancora peggio. Inevitabili le ricadute anche nel rapporto con i fornitori. Ci troviamo di fronte a degli aumenti esagerati, veramente capibili. Li capiamo sinceramente perché anche loro hanno avuto tutta questa serie di aumenti. Il problema qual è? Che per noi loro sono dei beni essenziali a cui noi non possiamo rinunciare. Mentre il bene che noi vendiamo, le nostre camere, i nostri servizi, non sono essenziali. Perciò anche pensare a un ritocco dei prezzi verso l'alto, ma non sappiamo se il mercato possa reggere questo ritocco dei prezzi. Tutti noi dobbiamo cercare di far pressione sul governo in modo da poter avere delle politiche di aiuti che ci aiutino ad andare avanti e a resistere. Perché tanto questa probabilmente, io la penso così, è una bolla speculativa. Dobbiamo riuscire ad arrivare alla fine di questa bolla speculativa. È stata lanciata anche una campagna proprio per sensibilizzare su questo tema. Sì, è una campagna su cui noi siamo totalmente d'accordo. Anche noi abbiamo aderito come Hotel Continentale. Tutto ciò ci sta sciupando e ci stiamo mangiando tutta una bella stagione, una bella estate che avevamo fatto dopo due anni di crisi.